Signore e signori. Lo storico Westgate Resort e Casino di Las Vegas. Il palco dove il re del rock and roll Elvis Presley ha eseguito alcune delle più grandi canzoni di sempre, Suspicious Minds, Love Me Tender. Presenta con orgoglio la regina del jazz Angelina Jordan. Angelina si esibirà in una sola serata. Due evento spettacolo. Ore 19 e 21 e 30 del 29 febbraio. Dopo anni di duro lavoro e di esibizioni in tutto il mondo. Esibendosi per re, presidenti e altri dignitari. E spettacolo sold out dopo show sold out troviamo Angelina Jordan per una notte. I biglietti sono disponibili tramite ticketmaster o angelinajordanafficial.com.